Sandro, come hai trovato la squadra oggi? Che domanda è? Bene, bene, credo che abbiamo fatto il massimo, abbiamo messo in campo tutto, il 101% tutti, era quello che abbiamo preparato, era quello che ci aveva chiesto il mister, era quello che volevamo fare, quindi abbiamo fatto il massimo e siamo felici di questa qualificazione. Un'altra?